Si fa sempre più difficile la situazione degli otto minimarket alimentari sul territorio piacentino del gruppo Rimarket che gestisce tra gli altri supermercati di meglio. I lavoratori e i sindacati hanno proclamato uno sciopero ieri e oggi perché negli ultimi quattro mesi non hanno percepito lo stipendio e la quattordicesima. 23 dipendenti dei punti vendita hanno inoltre rassegnato le dimissioni per giusta causa. Ormai la cosa è intollerabile, insopportabile. Abbiamo superato la linea di galleggiamento, pertanto moltissimi di questi dipendenti hanno dovuto rassegnare le dimissioni per giusta causa perché almeno riusciranno a prendere la Naspi, la disoccupazione e pensate che questa è una scelta molto difficile perché in un momento in cui non c'è lavoro da rassegnare le dimissioni diventa complicato. In totale i lavoratori coinvolti, compresi gli amministrativi, sono una cinquantina. A tutt'oggi noi vediamo buio pesto per il futuro, ci sono delle mensilità marzo, aprile, maggio, a questo punto anche giugno e la quattordicesima che non sono state pagate e non si vede in che modo possono essere pagate e di conseguenza i dipendenti hanno deciso di staccare la spina una volta per tutte e si stanno dimettendo per giusta causa in massa. Mal in cuore perché come la maggior parte degli altri ragazzi con le lacrime ci siamo dimessi e mi sono dimessa anch'io. La fiducia è smarrita in qualsiasi cosa. L'azienda contattata da Tele Libertà si scusa con i consumatori per il disagio provocato dalla chiusura temporanea dei negozi e fa sapere che si sta impegnando al massimo per risolvere una situazione complicata con l'obiettivo di trovare una soluzione nell'interesse della società, dei lavoratori e dei clienti.